Le denunce che riceviamo dagli anziani sono sicuramente numerose, però pensiamo che altrettante se non di più siano quelle che non vengono denunciate all'autorità per una sorta anche di vergogna forse che viene a crearsi nella vittima, che nel momento in cui si rende conto di essere stata raggirata tendenzialmente ha quel senso di vergogna che gli impedisce di esternare il problema che c'è stato. Oltre al danno, la beffa, perché la vergogna è grande quando si viene truffati, come la frustrazione di non avere più mezzi per difendersi, soprattutto se è anziani. I casi di raggiro nei confronti degli Over 65, spesso non denunciati e proprio per pudore da parte delle vittime, sono sempre più numerosi. Per questo il comando provinciale dei Carabinieri di Bari e l'amministrazione comunale del capoluogo hanno organizzato una giornata di incontro con le associazioni degli anziani per aiutare i cittadini non più giovani a riconoscere e difendersi dai truffatori. Noi ci aspettiamo che inizi un fattivo rapporto di collaborazione come c'è sempre stato, però adesso probabilmente con i tempi che corrono c'è bisogno di una maggiore intensificazione del rapporto fra le forze dell'ordine e il cittadino, perché il cittadino ha bisogno di sentirsi protetto e il lavoro che stanno svolgendo le forze dell'ordine è un enorme lavoro e quindi va riconosciuto fino in fondo. La Commissione Cultura ha inteso evitare che questo succeda e quindi dando delle informazioni utili che possono servire alla terza età, agli anziani. Quindi l'invito che io rivolgo a tutti quanti con i quali appartengono alla terza età, non disperate, chiamate le forze dell'ordine, perché anche ad una certa età si può continuare ad essere giovane se uno ha voglia di lottare e noi vogliamo dare questo tipo di insegnamento. Grazie a tutti.